E' tutto pronto per l'edizione 2024 del premio Lector in Terra Lecti, quintino festival dei lettori tra libri, musica e arte, promossa e organizzata dall'Officina dell'On. Luciano D'Alfonso, dalla Fondazione Europa Prossima, dall'Associazione V e dall'Associazione Pietrara Conviviale. L'evento si terrà a letto manoppello. La finalità, esaltare il valore della lettura come elemento fondamentale della formazione della persona e come alimento della crescita civile e culturale della società. 47 gli iscritti chiamati a illustrare le opere prescelte da un pool di esperti per le 5 categorie, ognuna con una propria agora in cui sono stati suddivisi i partecipanti. Gli alunni della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, i giovani sino ai 30 anni, le persone sino a 70 anni, le persone che vivono l'età della saggezza. Silvia Didonato, referente del premio. L'evento si svilupperà quest'anno in tre giornate. Sì, quest'anno l'edizione 1 verrà articolata in tre momenti diversi. Intanto c'è la due giorni del 7 e 8 settembre. Il 7 settembre è una vigilia importante con presentazioni di libri e un concerto. L'8 settembre parimenti con la presentazione di due importanti libri postumi del professor Luciano Russi al mattino, con la presenza della Fondazione Luciano Russi. Al pomeriggio il cuore della manifestazione che è il confronto fra i lectores articolati quest'anno in cinque categorie con la premiazione prevista poi in serata alle 20 e 30 circa. E poi c'è un terzo momento importante calendarizzato per il 21 settembre che sarà il concerto dei nomadi per la città della Maiella alle 20 e 30. In che cosa consisteranno le prove? Allora, ogni lettore avrà cinque minuti di tempo per restituire dinanzi alla giuria il rapporto che ha sviluppato con il libro pensato per la propria categoria. Il rapporto con un libro non finisce mai, è fatto di emozioni, è un mondo che si apre. Allora i lettori dovranno restituire le loro emozioni e il rapporto che hanno maturato con la propria lettura. Sarà la giuria a definire poi la migliore restituzione. Grazie.